Ma sicuramente sapevamo che non era una partita facile, nessuna squadra è venuta qua e ha imposto loro il proprio gioco. Il gol poi a freddo ci ha un po' tagliato le gambe, abbiamo comunque provato a fare la nostra partita, a difenderci come potevamo e poi comunque il Napoli è stato bravo nelle occasioni che ha avuto a farci male. Sì, sicuramente è partita male la partita e noi comunque, come ho detto prima, abbiamo provato a fare qualcosa e quando ripartivamo sicuramente dovevamo essere più incisivi, però contro una squadra così oggi era difficile. Però comunque penso che sotto l'aspetto della cattiveria e della voglia di non mollare siamo stati presenti. Sicuramente l'idea era di provare a iniziare l'azione da dietro, poi ovviamente le qualità tecniche avversarie ci limitavano un po' e c'è solo da fare i complimenti al Napoli e avrà in testa la prossima. Sicuramente di una squadra molto forte che può competere in tutte le competizioni e penso che la partita di oggi sia la riprova.